Sapete di questa delibera sciagurata di legalizzazione di mercatini dove appunto si vende merce rubata? Siamo veramente all'assurdo, certe volte mi sembra di essere su scherzi a parte quando leggo certe cose e come avete visto ieri abbiamo reagito immediatamente dicendo che se dovessimo avere il privilegio di andare in Campidoglio questa delibera sarebbe la prima che verrebbe annullata. Abbiamo letto oggi che c'è una marcia indietro probabilmente su questa delibera che fra l'altro, correggetemi il mio sbaglio, ma parlava pure di un discorso di edilizia popolare e anche con una serie di precedenze per certe persone, per certe famiglie straniere rispetto a quelle di Roma. Anche questo, mi dispiace signori, prima vengono i romani, poi vengono gli italiani e poi vengono gli altri. E ve lo dice uno che, ripeto, ha lavorato per una grande parte della propria vita in paesi in via di sviluppo e quindi credo di essere in qualche modo al di sopra di ogni sospetto, se mi permettete.